Al di là dell'ennesimo tiro dal dischetto e del rigore non rigore parato da Reina finalmente ci siamo riaccesi, ci siamo finalmente riaccesi, per adesso Giampaolo è salvo, ha capito che se non c'è quello sputo turco in campo giochiamo come si deve. Bene, appena ha buttato fuori Cialanoglu i nostri sono chiamati da così a così, non appena l'ha buttato fuori. Bene Marco, finalmente hai fatto un cambio azzeccato. In questo video però vorrei dare un messaggio a Reina. Caro Pepe, che cazzo di paper hai fatto sulla punizione di Schoene? Che cazzo di paper hai fatto? Hai praticamente, te la sei fatta praticamente passare in mezzo alle gambe dopo averla presa. Ma dai, su, ma dove si è mai vista sta roba? Se già era da una roba in porta la prendeva, potete stare sicuri che la prendeva, non se la faceva passare tra le gambe così. In tanta occasione abbiamo rischiato di subire anche il 2 a 2, in alcuni casi anche il 2 a 0, forse il 2 a 0 e l'1 a 0 prima della punizione. Genoa che era passato in vantaggio con una punizione di Schoene, noi abbiamo segnato finalmente un gol su azione, però purtroppo l'ennesimo calcio di rigore che c'era per carità di Dio. Perché il signor Biraschi ha proprio allargato le braccia facendosela letteralmente passare sopra l'avambraccio, il gomito e il braccio. Ragazzi, rigore c'era tutto. Ragazzi, rigore c'era tutto. Calabria mio, che cazzo hai combinato? Che cazzo hai fatto? Ti sei fatto fadare il secondo giallo e adesso non ci sarai per la prossima partita. Non mi ricordo contro chi è. Non mi ricordo contro chi sarà. Vabbè, ma poco importa. Comunque Calabria non ci sarà, non so chi giocherà il suo posto. E Bonaventura. Bonaventura ha fatto una buona partita, secondo me. Certo, non era il top della forma dopo il lungo infortunio, però si è un po' ripreso. Diciamo che si è un po' ripreso, ecco. Voglio essere positivo. Insomma, ho visto un secondo tempo abbondantemente migliore del primo. Ragazzi, quando Giampaolo ha buttato fuori Cialanoglu, ho esultato. Ho fatto festa quando l'ha buttato fuori. E ha funzionato, ragazzi. E ha funzionato. E adesso spero che non lo faccia giocare più. Io spero che lo tenga in panchina a vita. Perché quello non deve più giocare. Basta. Ormai è dall'inizio del campionato che lo ripeto. Che con Cialanoglu giochiamo in dieci tutte le partite. Soltanto contro il Brescia ha fatto una buona partita. Segnando fortunosamente il gol. Ma solo là abbiamo giocato in undici con lui. Per il resto abbiamo fatto schifo per colpa sua. Beh, penso che non ci sia altro da aggiungere. Ci vediamo domattina per il post-Inter Juventus.